Tre giornate dedicate alla sicurezza alimentare e ai sistemi agroalimentari, ad infrastrutture e investimenti sostenibili e alla salute globale. Al Via Pescara la riunione dei ministri dello sviluppo del G7, in programma fino al 24 ottobre e presieduta dal vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. Il G7 è importante che accade in un momento particolarmente difficile, ecco perché abbiamo deciso di aprire i nostri lavori con una conferenza internazionale a quale parteciperanno gli israeliani, libanesi e palestinesi, dove si cercheranno di trovare tutti gli strumenti utili per aiutare le popolazioni civili. Penso a quella di Gaza, penso ai libanesi, penso ai siriani che vivono in Libano, penso anche ai palestinesi del nord di Israele e agli israeliani del nord di Israele. Quindi tutte le popolazioni civili, indipendentemente dalla nazionalità, devono essere aiutate. Credo che qui si possa inviare un segnale chiaro perché con la presenza dei tre principali interlocutori che si confronteranno con i paesi del G7 si potrà, mi auguro, compiere un passo in avanti. In primo piano dunque le sfide e gli scenari geopolitici e la necessità di collaborazione tra i paesi del G7 e quell'invia di sviluppo per una crescita comune, globale e sostenibile. Food Security, evoluzione dei sistemi sanitari e aggancio alle transizioni digitali e ambientali, i paesi in via di sviluppo non solo essi stessi hanno un'occasione di crescita e di recupero socio-economico, ma possono essere un volano che stabilizza le catene degli approvvigionamenti dei paesi del G7, assicurando quindi competitività e crescita sostenibile globale. La cooperazione in quest'ambito è fondamentale, una delle chiavi di sviluppo in cui le imprese sono pronte a fare la propria parte. Oggi qui parliamo di cooperazione, è importante anche che i paesi del G7 si occupino anche dei paesi che stanno peggio e anche qui le imprese vogliono essere una parte importante attraverso joint venture, attraverso cose per aiutare le imprese dei paesi in via di sviluppo, in particolare dell'Africa. Grazie.